bene arrivati troverete che io sono un po' più lento perché di solito sono sul mio computer invece oggi sono ospite del CESBOT quindi sto usando un computer che non è il mio e ogni tanto rischio di di far casino allora io sovvertirei l'ordine dei fattori e vorrei chiedervi ma voi avreste una domanda prima che io cominci qualcuno avrebbe una domanda da farmi sul tema strumenti per la comunicazione ricerca di nuovi volontari probabilmente sì però facendolo così è molto scorretto è anche molto scortese però è anche vero che essendo una consulenza collettiva dovrebbe essere un luogo nel quale io parlo uno a uno con ciascuno di voi o più o meno insomma dividendo i per gruppi omogenei e cominciamo a ragionare sul singolo sul singolo problema che la singola associazione il singolo TSA soprattutto nell'area della ricerca di noi volontari nell'area dell'accoglienza però essendo online essendo in tanti diventa complicato allora come diceva prima Federico ogni tanto io farò una domanda collettiva cioè vi proporrò una specie di piccolo questionario con delle domande chiuse con di solito sì o no con risposte chiuse in modo tale che più o meno possiate darmi il sentiment di quella che è la vostra situazione perché questa consulenza collettiva di fatto parte del presupposto che come dire per ingaggiare nuovi volontari bisogna convincerli a coinvolgersi e la prima regola per convincere qualcuno a coinvolgersi è coinvolgersi a nostra volta e questo diciamo che forse è il mantra che noi useremo in questa in questa breve introduzione che peraltro è la porta d'ingresso di un percorso un po' più complesso come il CESVOT ci ha abituato in questi anni dove a metà da metà marzo partiranno delle cassette degli attrezzi sull'accoglienza dei volontari che saranno a coppia di due puntate poi vedremo le date ma insomma le avete se girate un po' nei materiali del CESVOT e questa cassetta degli attrezzi è prodromo di un servizio di consulenza attiva e personalizzata per le associazioni sul tema dell'accoglienza dei nuovi volontari perché lo fanno fare a me perché lo fanno fare a un uomo che di fatto molti di voi alcuni di voi hanno già conosciuto in altre situazioni su altri argomenti tendenzialmente sugli argomenti del marketing della comunicazione della promozione dell'immagine del contatto perché di fatto la ricerca dei nuovi volontari il loro contatto l'ingaggio il coinvolgimento sono fondamentalmente delle azioni al di là del fatto che tutte le associazioni ne hanno bisogno sono azioni che di fatto sono favorite dalla comunicazione dalla capacità di comunicare di dialogare con l'altro e oggi in qualche modo vedremo appunto un po' di questi alcuni di questi elementi non tantissimi ovviamente essendo una consulenza collettiva perché in questa consulenza a me piacerebbe che venissero fuori i problemi e non necessariamente le soluzioni non è possibile anche perché ogni soluzione andrebbe abbastanza personalizzata però diciamo che nella prima parte parlerò io molto di alcuni elementi base che condividiamo tutti e poi nella seconda dopo la pausa insomma verso la fine avremo lo spazio e allora lì vi richiederò se avete domande da fare ricordandoci che la domanda di uno poi in realtà esprime un bisogno o un problematica che spesso affrontano anche tutti gli altri per cui queste consulenze collettive hanno proprio l'obiettivo di dare una risposta cumulativa che in qualche modo va bene per tutti e quindi inevitabilmente e questo purtroppo ci possiamo fare niente saranno come posso dire risposte di tipo generale spero mai generiche però comunque generali che possono stare molto bene a qualcuno e magari per qualcun altro non essere sufficienti però per questo ci sono appunto le consulenze che voi potrete alle quali potrete accedere andando sul profilo My Chessworth dell'associazione chiedendo consulenza come per gli altri argomenti di tema giuridico legale di marketing fiscali eccetera anche per l'accoglienza delle volontà io partirei e io partirei da qui partirei da accogliere accogliere è una parola tra l'altro che ha un senso proprio di affetto anche nel suo etimo ogni tanto vedremo io mi diverto a usare l'etimo delle parole anche perché dentro le parole ci sono i significati poi c'è tutto il resto accogliere è raccogliere presso di sé accogliere in realtà come dicevo prima probabilmente l'accoglienza comincia se noi ci apriamo verso l'esterno e non se noi chiediamo all'esterno di venire verso di noi però di fatto tutte le associazioni tutti gli enti del terzo settore guardate anche le aziende nelle loro organizzazioni io vengo anche dal mondo il profit nonostante ormai la quindicina d'anni faccia queste esperienze grazie al CESBOT nel mondo del terzo settore l'accoglienza l'integrazione di persone nuove dentro organizzazioni è un tema tipicamente da profit e quindi sostanzialmente quello che noi oggi inizieremo a ragionare è quali sono i bisogni che portano le associazioni ad avere appunto bisogno di noi volontari e perché i volontari poi in definitiva sono una risposta perché in realtà ci sono bisogni delle associazioni che anche avendo volontari non troverebbero risposte e allora ci viene in aiuto per capire quali sono i bisogni come dire ai quali il volontario diventa la soluzione quali sono i bisogni delle associazioni per capire quali sono i bisogni delle associazioni bisogna rifarsi a uno strumento che si chiama piramide di Maslow che è fatto in realtà per il consumatore è uno strumento che si usa nel marketing ma che va benissimo anche nei rapporti interpersonali e sostanzialmente questo psicoterapeuta americano diceva che i bisogni sono suddivisi secondo dei gradini su una scala piramidale alla base di questa piramide ci sono i bisogni più basici quelli che chiameremo primari i primi due e quindi la fisiologia mangiare bere dormire l'esistenza stessa ciò che ci tiene in piedi e le esigenze di sicurezza di tranquillità di salute eccetera eccetera poi quando andiamo alla seconda seconda area nella seconda area ci sono i cosiddetti bisogni sociali quindi una volta che io ho sistemato il la mia il mio essere un uomo un essere vivente quindi ho mangiato e dormito e poi ho in qualche modo messo in sicurezza la mia situazione comincio ad aver bisogno di appartenenza e di stima e quindi nel gradino dell'appartenenza ci sono l'amicizia la solidarietà l'affetto familiare eccetera eccetera e nella stima l'autocontrollo il rispetto reciproco la realizzazione e in definitiva l'ultimo gradino della scala di Maslow è quello dell'autorealizzazione di sé dove ciascuno ogni persona si sente realizzato attraverso dei comportamenti anche di acquisto allora se noi applichiamo questa piramide dei bisogni ai bisogni delle associazioni vediamo che sostanzialmente i volontari sono una risposta quasi in quasi tutti i gradini cioè quando un'associazione ha bisogno di forza proprio forze fisiche per portare avanti delle attività o per dargli continuità sono i primi due gradini per cui i volontari possono essere utili in quando c'è un bisogno di tipo fisiologico dell'associazione quando c'è un bisogno di sicurezza così come quando invece una volta stabilizzata questa situazione i volontari possono venire utili possono essere importanti nel momento in cui ci sia bisogno di ampliare la propria cerchia di amicizie il proprio il novero delle persone che condividono con noi che condividono con noi le nostre istanze e in termini di stima che non solo le condividono ma che ce ne dimostrano anche ce ne danno atto quindi l'associazione cerca nuovi volontari non soltanto per tenere aperto in un orario un servizio piuttosto che fare un'attività ma anche soprattutto per sentirsi tra virgolette più realizzata e allora quindi vediamo intanto scardiniamo immediatamente l'idea almeno al momento che noi chiediamo al nuovo volontario di fare volontario perché fa bene a lui e stiamo per un attimo nella situazione nella quale noi cerchiamo il nuovo volontario fa bene all'associazione e allora la prima questione che io vi pongo tutte le volte che vedrete quel punto di domanda Federico farà apparire il questionario e vi farò delle domande che sono abbastanza secche avete dei volontari? Sì? No? Nel senso ci sono anche associazioni che ne hanno pochi ora avete sufficienti volontari ne avete parlato al vostro interno avete la stessa opinione se Federico ci mette non so come funziona devo togliere la condivisione? Devo togliere la condivisione? No, no Ah, ok Ecco, dovresti vedere Ok Allora, voi potete cliccare o sì o no nelle tre domande base avete volontari o state cercando volontari se li state cercando ne avete parlato al vostro interno e avete tutti la stessa opinione su che bisogno avere su qual è il bisogno su qual è il bisogno e perché li cerchiamo no? Che cosa che cosa ce ne facciamo no? Ah, mentre intanto crescono le risposte ora le risposte non so quanti siamo ok bene tendenzialmente ovviamente tutte le associazioni volontari hanno volontari no? tutti hanno parlato del tema o quasi tutti c'è un 3% c'è qualcuno che dice no, non ne abbiamo ancora parlato quando però si dice avete tutti la stessa opinione vedete viene fuori un risultato che è tipo 63 60-40 abbiamo la stessa opinione il 60% dice sì il 40% dice no quindi per capirsi questa questo come dire questo quesito e la vostra risposta ci fa dire che se è vero che tutti quanti sentiamo la stessa necessità probabilmente non tutti abbiamo la stessa ricetta per la risposta e già questo è un elemento perché è un elemento che ha in sé un rischio rischia di essere immediatamente divisivo e ciò che dovrebbe essere invece un'attività positiva per l'associazione rischia di diventare un'attività negativa e quindi aprirsi non aprirsi cercare non cercare ma stiamo tanto bene così ma no perché non riusciamo a fare tutto vedete queste come dire istanze che vengono portate dai diversi dai diversi componenti dell'associazione partendo da un bisogno reale possono portare a una situazione anche delicata di cui parleremo magari più avanti allora vedete come dire probabilmente questa questa delicatezza si risolverebbe se avessimo tutti chiaro o o quasi tutti quando esprimiamo un'opinione e quelli che io chiamo gli elementi di identità associativa l'importanza delle relazioni e i processi no nel senso che chi magari è disponibile all'apertura potrebbe non avere contezza di cosa significhi invece fare integrare un nuovo volontario e invece chi magari non lo vuole integrare perché magari ha avuto le esperienze negative quindi prima di dare un'opinione bisognerebbe che l'associazione facesse un percorso intanto sulla sua identità associativa e quindi capire anche quali sono gli elementi con i quali va a a investigare il mondo per capire se esistono potenziali nuovi volontari e anche come dire la spesa in termini di relazioni che questa associazione deve che l'associazione deve poi affrontare per gestire l'ingresso appunto dei nuovi volontari e guardate invece c'è una parola strana c'è scritto i clienti no? perché i clienti? perché io li chiamo i clienti nuovi volontari? perché in realtà sono effettivamente clienti dell'associazione ma clienti non nel senso se io vi avessi tutti davanti in una stanza siete in 53 poteste rispondere contemporaneamente alla domanda che cos'è il marketing che cos'è la vendita se l'associazionismo e il marketing hanno a che fare probabilmente molti di voi mi direbbero che non hanno niente a che fare che non c'entrano nulla una cosa con l'altra e che anzi noi siamo lontanissimi dal marketing perché non vendiamo niente allora invece io una volta mi è capitato ma questo era 15 anni fa una signora mi dice guardi che noi nelle associazioni non siamo sottilette e allora io ci ho pensato per tanto tempo e poi ho capito che in realtà probabilmente non mi ero spiegato e allora quando io dico i clienti uso l'accezione latina clientes sono le persone che di fa si avvicinavano a una famiglia cioè che appartenevano a una famiglia pur non essendo dei familiari erano persone che si inclinavano clients in il latino vuol dire colui che si inclina che va verso allora pensate il gesto di avvicinarsi a un'associazione a un inclinarsi verso così come per l'associazione verso i volontari quindi questa clientela o questo clientelismo che noi usiamo sempre in maniera negativa in realtà è un elemento molto potente perché se noi pensiamo ai nostri potenziali volontari come dei clienti ci renderemo conto che non tutte le persone sono adatte per tutte le associazioni e non tutte le associazioni vanno bene per tutte le persone quindi ci sono persone per le quali è facile associazioni per le quali è facile trovare clienti e associazioni per le quali è difficile trovare clienti ci sono associazioni che hanno la possibilità di proporre a delle persone un clientelismo facile ci sono associazioni che sono più complicate quindi indagarsi per capire prima di tutto non di chi ho bisogno ma chi può avere bisogno di me che cosa rappresento io per l'esterno è la prima chiave per aumentare la consapevolezza e così anche la possibilità di uscire all'esterno e individuare quello che poi si chiama il match adeguato il match giusto due due entità che si avvicinano e si combinano vabbè poi potremmo faremo un escursus veloce su questo aspetto psicologico della persona e del fatto che di fatto noi fuori abbiamo milioni di individui ma che più o meno si riconducono tutti a degli archetipi quindi come dire delle categorie di persone abbastanza codificate e capiremo che le associazioni possono essere assolutamente adatte a un archetipo junghiano perché se l'era inventato Carl Fredrick Jung ma insomma a un archetipo junghiano piuttosto che a un altro e in questo la ricerca di nuovi volontari è al di là del domandarsi chi vogliamo come dobbiamo contattarli al di là di domandarsi quali sono le parole chiave per l'identità non so se ogni associazione che ho qui oggi ha la sua lista di parole chiave ve lo domanderò più in qua e mi dovrete dire sì o no probabilmente sì altre volte no se ci pensate le avete magari non le avete mai codificate ma sono quelle parole che poi dovreste usare per ingaggiare il potenziale nuovo volontario ma soprattutto l'idea di di ingaggiare nuovi volontari parte dalla considerazione e da una presa di coscienza se avere nuovi volontari è una soddisfazione individuale o un'aspirazione collettiva cioè se nel momento in cui noi stiamo cercando nuovi volontari lo stiamo facendo per un bisogno associativo o se invece riusciamo anche a rappresentare quell'aspirazione collettiva che probabilmente l'estraneo sentirà di più perché il nostro bisogno associativo l'estraneo non lo conosce non ne è interessato e tendenzialmente ci risponderà di no se invece noi riusciamo ad astrarci da questo nostro bisogno e a proporgli un'utilità e guardate in qualche momento io sembrerò anche abbastanza mercificante vi assicuro che i 15 anni di CESVOT e i 15 anni di consulenza con le associazioni non solo mi ha confermato che faccio bene ad esserlo ma vi assicuro che non è una mercificazione cattiva è solo per farvi come dire per farvi avere farvi arrivare a questa consapevolezza che comportarsi da uomini di marketing nell'individuare noi volontari non è sbagliato ma anzi è necessario perché diversamente non ci si arriva non ci si fa allora vedete quando noi quando noi individuiamo noi volontari ricerchiamo noi dobbiamo pensare che ci sono questi tre verbi sapere fare ed essere che tendenzialmente ci sono coinvolti nella costruzione del rapporto perché c'è il sapere allora c'è chi fa il volontario perché acquisisce nuove conoscenze oppure noi possiamo proporre nuove conoscenze conoscerai un mondo di cui non sei a conoscenza essere noi portatori di nuove conoscenze che non è solo sapere ma è anche lavorare con gli altri per esempio una delle leve che si usano spesso per ingaggiare i nuovi volontari è dire incontrerai persone con le quali starai bene magari stiamo parlando con un introverso che non ha nessuna voglia di incontrare persone con cui stare bene però noi non lo sappiamo noi gli stiamo proponendo quelli poi però c'è anche il saper fare e il saper fare è un altro dei bagagli che si possono proporre un altro dei vantaggi che si possono proporre nell'azione volontaria che è imparare a essere problem solver che è imparare a gestire il tempo che è imparare a gestire le risorse e poi c'è quella parte che invece noi usiamo spesso quando ingaggiamo cerchiamo di ingaggiare i nuovi volontari perché ci buttiamo dentro tutto che è le saper essere cioè sviluppare la consapevolezza dell'azione del bene e dei suoi contenuti quindi l'empatia l'autonomia la leadership guardate se fossimo a consulenza con una di queste 53 associazioni e volessimo fare una mappa di questo mondo qua potremmo fare una cosa tipo una ragnatela tipo questa dove a ogni valore a ogni ambito a ogni item diciamo così corrisponde un valore da 0 a 100 e il disegno che ne viene fuori sarebbe diverso per ogni associazione ci sono associazioni molto forti nell'area del lavoro di gruppo del time management e magari poco lavorano poco sulla consapevolezza di sé penso per esempio alle associazioni ambientaliste alle associazioni ambientali quelle che fanno recupero del territorio dove non lavorano con l'emozione con l'empatia poi penso invece a tutte le associazioni sociosanitarie dove il problem solving e il time management sono meno coinvolti ed è più coinvolto magari la consapevolezza di sé la gestione dello stress eccetera eccetera bene a questo punto vi mostro un'altra vi porto sempre piano piano sempre di più in un ambito come dire quasi profit perché perché noi dobbiamo pensare che quando noi cerchiamo un volontario abbiamo bisogno un volontario possiamo proporgli delle cose poi vedremo meglio anche che cosa però non ci poniamo mai o quasi mai la domanda di qual è la fase o di qual è il suo comportamento quando acquista azione volontaria perché in realtà guardate il volontario sta acquistando il benessere che gli verrà dall'agire in maniera volontaria all'interno di un volontariato organizzato ed è come comprare un prodotto lasciando un attimo da parte il ruolo nel processo e il comportamento in base al momento che ci interessano fino ad un certo punto io vi vorrei sottolineare il percorso di acquisto cioè quando dobbiamo comprare un prodotto qualsiasi la prima cosa che facciamo è riconoscere di avere un bisogno poi cerchiamo informazioni poi valutiamo le alternative che ci vengono poste poi compriamo ma il percorso di acquisto non è mica finito con l'acquisto il percorso di acquisto finisce con la valutazione post acquisto cioè come valutare se quell'acquisto è stato positivo o negativo e quella valutazione sarà vedete quella freccia che torna in su sarà il primo elemento al quale noi ricorreremo nell'acquisto successivo tipo prodotto cibo compro un prodotto cibo che non conosco lo compro mi piace lo ricompro ok non mi piace non lo compro più quando io vado a pensare a un acquisto la prima cosa che faccio è che vado a cercare nelle vecchie valutazioni post acquisto ma guardate perché quella parola in rosso riconoscimento del bisogno perché anche l'azione volontaria si compra allora io riconosco un mio bisogno cerco informazioni valuto le alternative tra le varie associazioni che mi propongono un'azione volontaria sviluppo quel comportamento compro azione volontaria attenzione compro c'è poi un'azione che faccio io però io la compro perché la pago la pago col mio tempo e poi valuto se questo acquisto che ho fatto è positivo o meno se è positivo lo ricomprerò se è negativo probabilmente non lo ricomprerò e perché quella parola rossa riconoscimento del bisogno perché riconoscere un bisogno significa dargli la dignità di avere una risposta cioè il riconoscimento del bisogno non è semplicemente un frizzore non è semplicemente una sensazione di malessere un malstare il riconoscimento del bisogno è qualcosa di più profondo riconoscere un bisogno significa intanto conoscerlo ma significa soprattutto dargli dignità la dignità di essere risolto e quindi nel dargli la dignità di essere risolto parte parte la necessità di risolverlo con un acquisto di azione volontaria è esattamente lo stesso modello che si usa quando si compra un paio di scarpe solo che in un negozio di scarpe il prezzo delle scarpe lo decide il negoziante in un negozio di volontariato il prezzo dell'azione volontaria lo decide il volontario cioè è un marketing lo vedremo è un percorso di acquisto ed è un marketing di proposta che è imperfetto perché in realtà noi ci comportiamo come chi vende automobili e sottilette ma abbiamo davanti una persona che quando decide di acquistare il benessere che verrà a lui e alla società dalla sua azione volontaria il prezzo lo decide lui ed è questo lo scoglio più grosso che noi ci troviamo ad affrontare e allora cerchiamo e tutti facciamo così ci buttiamo sulla narrazione sulla pubblicità sulla propaganda cercando di sminuire il costo quante volte vi sarà capitato ora non vi vedo tutti davanti però sarà capitato a molti di voi di fare la classica affermazione in fondo due ore non sono tanto non sono troppo impegnative un po' del tuo tempo in realtà il costo di quel tempo ognuno ce l'ha diverso perché c'è qualcuno che due ore non sa come fare a metterci e c'è qualcuno che due ore le butta via perché il tempo la percezione del tempo è una percezione singola quindi noi dobbiamo non dobbiamo mai nel momento in cui agganciamo e cerchiamo di ingaggiare un potenziale volontario non dobbiamo mai cercare di lavorare sul prezzo perché noi non possiamo né proporre sconti quindi non possiamo scontare il prezzo e quindi non possiamo agevolare possiamo soltanto incrementare il valore del risultato di quell'impegno allora vedete quando io dico che noi dobbiamo fare marketing per agganciare per agganciare i potenziali volontari lo dico perché è il marketing che sta andando verso che sta venendo verso la società perché una volta il marketing era vendere prodotti oggi invece in realtà il marketing è scambiare offerte che abbiano valore per clienti committenti partner e società in generale così si definisce il marketing oggi non è più guardate vi faccio tre casi emblematici di queste settimane lasciando perderla Ferragni che non mi interessa Unieuro che promuove le sue attività dentro le scuole con la polizia di stato Lavazza che promuove i corsi di barman per i ragazzi per il recupero dei ragazzi che stanno negli IPM la team che fa uno spot dentro Sanremo per parlare di parità di trattamento fra donne e uomini con la scarpetta rosa buttati giù in muro c'è gente che non vende più prodotti ma vende il suo impegno nella società voi direte ma loro sono aziende profit sì ma rispondono a questa logica al fatto che ormai il cittadino non vuole più comprare prodotti ma vuole comprare prodotti che abbiano anche un valore per la società e quindi è il marketing che sta venendo verso di noi perché il volontariato ce li ha i valori per la società in generale capite? allora a questo punto vi pongo un'altra domanda e cioè e qui chiedo a chiedo a Federico di tirare fuori il questionario perché vi chiedo se avete un database dei contatti e se questo database è aggiornato perché siccome la prima risorsa di marketing è sapere chi sono i miei clienti e dove sono e questa è una risposta multipla quindi potete schiacciare anche più risposte se ne avete perché in realtà la prima risorsa di una corretta strategia di marketing è conoscere il proprio mercato conoscere il proprio potenziale in termini di clienti e quindi la prima cosa da fare è domandarsi ma noi ce l'abbiamo un database ah guardate è stato rispondendo anche abbastanza velocemente abbiamo allora intanto ok siamo già al 50% di risposte pochissimi hanno access ma questo non importa allora avere attenzione avere un database su facebook è molto pericoloso perché facebook ti le butta giù tu il database non ce l'hai più questo per cominciare poi a mano averlo a mano è difficile da manovrare è difficile da lavorare molti ce l'hanno su excel per fortuna io sono un io sono un patito di excel e quindi sono convinto che sia lo strumento adatto sarebbe interessante fare un corso di databasing su excel anche se access sarebbe quello giusto di tutti e poi c'è un altro a cui hanno risposto che hanno altro il 18 il 40 il 50% io sarei curioso di sapere cos'è quell'altro quali altri strumenti di database detto questo detto questo il vostro database è aggiornato diciamo di sì diciamo di sì è automatizzato insomma abbiamo sempre un po' le mani avete le mail del vostro database il 50% avete il telefono del vostro database il 40% cioè abbiamo abbiamo intanto che tu credete risposto ok abbiamo un database no mi sono saltato tutte le slide scusate un secondo interrompi condivisione fatemi vedere cosa è successo secondo solo si è piantato ci sono piantate le slide arrivo subito cerco di recuperare dall'altra parte da un altro file vai vai proviamo con questo sì dunque allora adesso torno sulla zoom forse abbiamo risolto anche la questione della condivisione aspetta condividi schermo qual è questa questa eccola qua cosa vedete vedete la presentazione si vede bene tutta tutta pagina intera ok no perfetto benissimo serve anche a me ok allora ecco una slide che non avevamo visto prima che invece è molto importante no ma il volontariato o l'azione volontaria è un prodotto no l'azione volontaria è un servizio cioè o meglio risponde alla stessa logica del marketing dei servizi dove di fatto dove di fatto oltre alle quattro classiche leve che sono il prodotto il prezzo il posto la distribuzione la promozione del marketing dei prodotti ci sono altri tre elementi che sono persone processi e prove sociali cioè e approvazione sociale vedete il marketing dei servizi e per servizi si intende anche il servizio di un CAF piuttosto che un servizio pubblico anche il marketing dell'ufficio dell'agenzia delle entrate attenzione perché anche l'agenzia delle entrate fa marketing si avvicina al mondo del volontariato perché tiene in considerazione questi tre elementi che invece il marketing di prodotto e al quale il marketing di prodotto è poco sensibile che sono le persone e i comportamenti delle persone e allora sostanzialmente perché dicevo che il marketing è il marketing è il prefetto perché l'ho già detto il prodotto il prezzo nell'azione volontaria lo paga il volontario e in questo prezzo noi non possiamo toccarlo però possiamo fare delle proposte cioè possiamo proporre valori e allora io qui vi inviterò sempre a ragionare sul fatto che i valori non sono tutti uguali ci sono valori concreti valori astratti valori personali i valori non sono tutti uguali diciamo che tendenzialmente questo potrebbe essere un ragionamento da fare insieme durante un percorso associativo quali sono i nostri valori se quando verrete a consulenza la prima domanda che vi farò è quali sono i valori della vostra associazione e voi mi direte dei valori più o meno a casaccio allora io a un certo punto comincerò a dividerli fra i valori concreti e i valori astratti perché i valori concreti sono quelli legati all'azione in sé mentre i valori astratti sono quelli legati a un pensiero quasi a un valore etico e poi ci sono i valori personali che sono quelli dei volontari che già frequentano una associazione e che sono quelli che noi andremo a proporre ai volontari potenziali pensando peraltro che quando noi comunichiamo non lo facciamo con le parole e non lo facciamo nemmeno con il test ma tendenzialmente noi comunichiamo con il non verbale e purtroppo l'ingaggio e il contatto con il potenziale consumatore di azione volontaria spesso avviene con strumenti che non hanno la possibilità di dare tutta la comunicazione immaginatevi come possiamo essere empatici con un post su facebook o come possiamo essere empatici con una mail anche se cerchiamo di usare le parole più corrette dobbiamo immaginarci che un po' di questa roba noi un po' di questa roba noi la perdiamo e allora ci viene in aiuto la pubblicità in questo senso se vogliamo la pubblicità in quanto non tanto la pubblicità classica quella che noi chiamiamo la pubblicità cioè per esempio gli spot piuttosto che le page piuttosto che i manifesti ma un atteggiamento pubblicitario cioè quando noi andiamo a raccontare l'associazione a qualcuno per convincere o diventare il nostro volontario dobbiamo usare un atteggiamento pubblicitario tenendo presente che la pubblicità è di fatto un atto volontario di persuasione dove la persuasione di fatto è il cercare di far cambiare l'obiettivo non è tanto quello di convincere ma è quello di cambiare l'atteggiamento cognitivo affettivo dell'estinatario cioè fargli capire che quello che lui pensa di ciò che gli andiamo a proporre è diverso da ciò che in effetti è cioè andando a cercare di scardinare quelli che sono i suoi preconcetti andando a cercare di scardinare quelle che sono le sue abitudini mentali i cosiddetti luoghi comuni e per farlo noi usiamo uno strumento che appunto è la pubblicità o comunque la comunicazione di tipo promozionale che non è stata inventata da Fedez ma di fatto è stata teorizzata da Aristotele quando Aristotele sostanzialmente diceva che nel percorso emittente messaggio destinatario i tre elementi fondamentali sono l'ethos il pathos e il logos dove l'ethos è io che parlo chi sono io che parla è più importante di come dico le cose il pathos ed è ancora molto più importante di ciò che dico il logos quindi sostanzialmente la comunicazione di tipo persuasivo dovrebbe dovrebbe essere orientata quasi tutta a valorizzare l'ethos perché è quello che funziona di più perché è quello che ha il maggiore la maggiore capacità di essere persuasivo e allora perché bisogna essere persuasivi perché di fatto noi dobbiamo cercare di come dire di far percorrere al nostro potenziale volontario un percorso che non è lineare ma una specie di tunnel una specie di imbuto dove all'inizio sono in tanti che ricevono il nostro primo contatto e poi piano piano vengono sempre più invitati ad avere un'azione a gestire un atteggiamento un'intenzione e poi passare all'azione e naturalmente nel nostro ideale di comportamento noi non ci aspettiamo che ci diano due ore del loro tempo noi ci aspettiamo che ci diano due ore del loro tempo che ce le diano sempre e che coinvolgano anche gli altri cioè il nostro modo di vendere prodotto guardate qualcuno tra un po' va via secondo me il nostro modo di Marco aspetta mi vedo ridere ma tra un po' qualcuno si arrabbia il nostro modo di vendere prodotto è un modo molto caro noi siamo costosi il volontariato è un prodotto costoso perché non ci accontentiamo che uno lo compri vogliamo anche che diventi assolutamente venditore un po' come se la nutella ci dicesse vabbè allora non solo devi mangiare ma devi convincere gli altri a mangiarla nel condominio c'è tutta la strada vai in giro con un poster di nutella sulla schiena guardate quando noi giriamo con il coccodrillo della Lacoste di fatto noi diventiamo advocate di Lacoste anzi paghiamo 70 euro una cosa che ne costa tre per metterci un coccodrillo per sembrare più fighi quando in realtà stiamo facendo pubblicità alla Lacoste questo è il percorso allora noi non è che viviamo in un altro mondo noi viviamo in un mondo dove così come c'è un funnel per andare a comprare un prodotto che vedo la pubblicità vado nel punto vendita provo il prodotto e lo compro quando sono offline oppure vedo la pubblicità vado sul punto vendita virtuale lo compro e poi lo provo perché questo succede quando ho scoperto le mie figlie diciottenni che comprano decine di paio di pantaloni non li puoi comprare uno sola anticipano i soldi poi se li fanno rendere perché li provano a casa non hanno voglia di uscire a diciottenni io diciottenni ero sempre la strada c'è anche nel volontariato guardate c'è un funnel anche nel volontariato allora il funnel è quello classico vedo advertising vuol dire un contatto che può essere anche un banchetto che può essere una persona me ne parla dove io provo e passo all'azione naturalmente questo è largo in alto perché tanti vengono contattati e solo alcuni diventano volontari ma c'è anche un funnel online che delle volte porta a un percorso naturale di aggancio e poi a un comportamento ma c'è un funnel online che rimane online che porta tendenzialmente al comportamento donazione e guardate donazione è uno dei nostri principali competitor io lo dico da anni il pericolo la donazione è fondamentale gli sms per la ricerca contro il cancro è fondamentale se ne scampi il libro non direi mai che non lo è non lo penso nemmeno però è pericoloso perché la stragrande maggioranza dei cittadini fa un messaggino da 2 euro e si sente gratificata come una persona che invece ci ha messo 20 ore alla settimana di azione volontaria capite dov'è la stortura qual è il pericolo del rimanere online e di non far uscire nell'offline difatti quando io dico attenzione a facebook non tanto per il database sicuramente il database su facebook è pericoloso ma rimanere soltanto sui social e non avere il contatto personale è pericoloso perché il volontariato si esprime nel rapporto personale e allora noi dobbiamo tornare ai fondamentali e tornare ai fondamentali significa per esempio costruire una strategia di comunicazione ora su questa non vi starò perché non è una cassetta sulla comunicazione non è una consulenza di comunicazione però ricordatevi che si fa comunicazione noi come la fa la Coca Cola alcuni elementi e gli elementi per fare comunicazione sono questi otto qualcuno ha chiesto ci manderete le slide sì alcune sì non tutte alcune sì sicuramente fra queste alcune questa ci sarà perché quando voi dovete fare un'azione di comunicazione qualsiasi dovete ricordarvi che gli otto elementi per considerarla e per pensarla e per costruirla sono questi otto non ce n'è nessuno né di più né di più né di meno allora uno degli aspetti fondamentali dell'attività di comunicazione è sapere che è il mio target cioè la persona o il tipo di persona da quale io parlo e allora al di là del fatto che adesso Federico ci metterà il nuovo questionario sapere se siete pronti la domanda che vi faccio qui è avete pronte le attività per noi volontari è prima di avete un profilo tipo del volontario che state cercando voi rispondete ad entrambe perché la prima è molto importante ed è molto importante perché dovrebbe essere una domanda che noi ci poniamo prima prima di cominciare allora avete azioni avete azioni pronte per i nuovi volontari 75% sì 25% 25% no ecco benissimo allora a quelli che non hanno pronte azioni per i nuovi volontari dico preparatevele perché nei momenti in cui voi ingaggiate qualcuno e non avete qualcosa da farli fare è meglio se non lo ingaggiavate ok quindi avere pronte delle azioni significa anche per tornare al menu principale del bisogno prima che noi in qualche modo siccome abbiamo quelle azioni e andiamo a cercare quel tipo di volontario inevitabilmente scarteremo qualcuno che potrebbe essere assolutamente interessato a noi ma che al momento non ci sembra adatto alle azioni che abbiamo pronte per lui quindi attenzione a costruire un percorso troppo rigido perché il rischio è che noi costruiamo delle azioni a parte sono delle azioni che sono obbligate ma costruiamo delle azioni che in qualche modo inquadrano un certo tipo di target ma che però ci fanno perdere delle altre persone allora se io poi vado a guardare che tipo di profili il profilo di volontario che state cercando trovo una cosa molto interessante che l'età che in qualche modo ha la maggiore richiesta è l'età 30-50 se noi avessimo fatto questo sondaggio probabilmente ma non tanto ma un certo 8 anni fa probabilmente sarebbero andati quasi tutti sotto gli under 30 tutti avrebbero risposto avevano bisogno dei giovani perché questa cosa dei giovani piano piano si è scardinata per fortuna perché cercare di avere a che fare sempre e solo con i giovani è estremamente rischioso mentre le età più adulte ovviamente sono come dire non dico da preferire ma insomma c'è la possibilità di che siano un po' più elastiche rispetto per esempio anche i giovani che tutto sommato pur essendo giovani alle volte hanno delle rigidità che sono superiori alle nostre allora se qualcuno di voi io spero qualcuno di voi parteciperà se sarà interessato alla cassetta di attrecci si troverà davanti a questo disco questo è il disco degli archetipi junghiani mi suggerisco di andare su internet a cercare archetipi junghiani troverete centinaia di contributi di contenuti che vi parlano di questa di questa di questa modalità di divisione del target delle persone no ognuno di noi in qualche modo può essere inquadrato in uno di questi dodici archetipi o comunque in un'area no in un'area allora più che guardare quelli che stanno dentro al disco vi suggerisco di guardare ciò che è nelle frecce vedete l'organizzazione di sé libertà socialità e ordine ok allora perché il volontariato è socialità tendenzialmente tendenzialmente sarà più facile individuare nuovi volontari nelle figure del medium del caregiver si chiama proprio caregiver lo chiamano così ma in realtà è portatore è portatore di bene lo chiamava Jung in qualche modo e poi l'innocente il giulare meno nelle aree creatore mago saggio che sono dall'altra parte che sono più interessati alla realizzazione di sé quindi è più probabile trovare un volontario con delle caratteristiche medie piuttosto che un volontario con delle caratteristiche non posso dire molto ego riferite nonostante che spesso si dica chi fa il volontario lo fa per sé cioè attenzione nel momento in cui si ragiona di accoglienza di nuovi volontari bisogna cominciare a immaginare che un po' degli stereotipi che ci hanno accompagnato in questi anni vanno in qualche modo demoliti perché quest'idea che il volontariato fa bene anche a sé rischia di inquadrare persone che di fatto tendenzialmente hanno un bisogno di soddisfare che va verso come dire in qualche modo egoriferito e noi rischiamo di cercare di colpire persone che sono diverse da noi invece in realtà il target più facile da individuare siamo noi cioè se noi facessimo un'analisi della nostra associazione ognuna per sé ovviamente voi siete 50 io non lo riesco a fare oggi per ognuno però se noi dovessimo fare un'analisi provando a immaginarci quello che fa star bene noi perché noi facciamo un tagliato all'interno della nostra associazione probabilmente dovremmo cercare persone che ci assomigliano cioè dovremmo cercare di parlare a quelli che sono più o meno gialli come noi perché sarà più facile per loro e per noi creare questo momento di accoglienza cercare persone molto diverse può essere utile ma può essere anche pericoloso perché può costruire quei momenti come dire di distonia che poi generano in qualche modo conflitti e che poi alle volte sono quelli che ci fanno dire ah ma insomma noi volontari non abbiamo bisogno vedete poi anche in cassetta parleremo di persone orientate al potere persone orientate al successo persone orientate all'appartenenza cioè ci sono dei driver che spingono ciascuno di noi a muoversi a fare delle azioni e naturalmente quei driver vanno compresi per trovare poi delle formule di aggancio allora vedete un'altra delle cose che noi ci troviamo ci troveremo ad affrontare quando cercheremo nuovi volontari è che potremo trovare persone motivate e capaci persone motivate ma non capaci persone non motivate e non capaci persone non motivate e capaci allora naturalmente cerchiamo tutti quanti immotivati e capaci ovvio così come cerchiamo di come dire cerchiamo di evitare quelli non motivati e quelli non capaci però così potremo perdere un'opportunità perché se perché se adesso ho perso le frecce eccole qua perché se al non al non capace diamo competenze no magari lui poi si motiva se al non motivato diamo motivazione ma poi magari poi lui diventa anche capace cioè l'insieme di motivazione e capacità studiato per il singolo perché immaginarsi l'accoglienza dei volontari come l'accoglienza a un gruppo di persone è una delle cose più fallimentari che esista nel senso che noi possiamo contattarli in maniera massiccia e massiva parlare a tanti di loro tutti insieme ma poi l'aggancio lo dobbiamo fare singolarmente è quell'aggancio singolo che poi costruirà costruirà un percorso personalizzato e su quell'aggancio singolo poi dovremo investire in termini di tempo adesso nel mentre siccome sono le cinque io si è detto dopo un'ora si fa una pausa io sono Ligio al dovere e quindi adesso vi propongo una pausa ma nel proporvela vi propongo anche di rispondere a questa domanda quindi diciamo che noi ci ritroviamo fra intanto Federico la mette online e ci ritroviamo fra più o meno cinque minuti più o meno così ognuno ha risposto alla domanda ha fatto due passi ha bevuto un bicchiere d'acqua e ci ritroviamo qua d'accordo? chiedo a Iuri Baroni a Marco Cerrai di farmi il cenno con la testa che sono loro che ho e a Maria Grazia Laureano che ne ho due o tre nel quadratino su 54 05 c'era chiedo a chi vedo ci vediamo tra poco scusi una domanda quando si buonasera quando si intende il documento della vostra identità tipo un volantino o una cosa del genere che intende? sì 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 però attenzione sì la domanda dopo sarebbe vi rappresenta però non c'è la domanda dopo vi rappresenta perché sennò sarebbe un cosa di comunicazione un documento della vostra identità in realtà vabbè intanto state rispondendo qualcuno non ce l'ha andiamo avanti ci vediamo tra poco però ci diamo del tu mi raccomando a dopo avete un documento della vostra identità sì al 90% è ovvio o avete un depliant o avete una o avete una una brochure avete uno statuto quindi insomma un un l'oggetto sociale da qualche parte avete un documento avete le parole chiave 50 e 50 più o meno a parte non mi torna non mi torna la percentuale non so come mai ah ok aspetta avete un documento sì ok quindi 20 su 41 il 50% che hanno risposto in 41 no 9 su 41 gli altri non hanno risposto a questa domanda o vabbè non importa va bene uguale poi quante parole chiave avete da 1 a 5 da 6 a 10 oltre 10 allora ecco bene se posso darvi un suggerimento chi ha detto che non ne ha oltre 10 cioè praticamente solo in 2 hanno detto che ce n'hanno 10 mi suggerisco di averle di averne di più cioè di cercarne di più perché da 1 a 5 sono troppo poche da 6 a 10 cominciano ad avere un senso oltre 10 è meglio perché le parole chiave sono le parole che voi userete nel momento in cui andrete a raccontare l'associazione quindi avere poche parole chiave vi permette di avere poche come dire vi permette di avere pochi strumenti di dialogo per cui a chi ha poche parole che poi non è vero magari avete risposto adesso in maniera diciamo così veloce però in realtà davvero fate questo sforzo se una volta prendete tutta la una volta lo dico sempre questo è un giochino che ho fatto fare a un paio di associazioni ed ha funzionato una sera invece di fare il solito direttivo la solita riunione nella quale si parla delle solite cose dell'associazione fate la crostata delle parole cioè portate una crostata tagliata da pezzettini piccini piccini ovviamente no se uno individua una parola mangia un pezzo di crostata se non individua la parola non mangia la crostata la prima metà della crostata vedrete va via in un lampo la seconda metà fa più fatica perché cominciano a trovare dei sinonimi cominciano a trovare no c'è stata un'associazione una sera nel 48 hanno mangiato quattro crostate però ho tirato fuori 35 parole che non erano sinonime quindi sono andate a indagarsi perché cercare le parole chiave per dirle all'altro è un esercizio che serve prima di tutto a noi guardate non è la prima volta che lo dico e lo continuerò a dire e ve lo dirò alla cassetta se verrete e ve lo dirò a consulenza se verrete fare accoglienza dei volontari è prima di tutto accogliere noi stessi accogliere noi come associazione nel nostro bisogno di nuovi volontari il nostro bisogno di nuovi volontari che viene da quella piramide che si è visto è indagare questo bisogno è il primo passaggio di consapevolezza per arrivare poi a cercare la persona giusta perché dire ho bisogno di volontari per aprire perché così tengo aperto uno sportello tre ore in più alla settimana pensate quella persona tre ore alla settimana sarà la faccia dell'associazione trovare una persona che tenga aperto uno sportello tre ore è una delle attività più difficili perché è la persona che parlerà dell'associazione e quindi se no si va a una parola che purtroppo ho dovuto usare anch'io che è reclutamento dei volontari guardate è una parola che io odio perché reclutare a parte che è una parola che riporta ai termini guerreschi ma insomma anche strategia riporta ai termini guerreschi reclutare significa metterci una pezza cioè cercare persone che e davvero anche nell'esercito coprono ruoli che non sono coperti perché la recluta è una pezzola un pezzettino di stoffa da uscire nel buco la toppa ok allora reclutare è molto pericoloso perché ci perché ci costringe perché nell'ansia di reclutare rischiamo di reclutare persone sbagliate ma tornando a noi al nostro documento dell'identità noi abbiamo chiara la nostra identità e gli altri ce l'hanno chiara ci siamo mai domandati e questa era una domanda che io avrei voluto farvi ma non vi ho fatto perché probabilmente la risposta sarebbe stata no al 90% abbiamo idea di cosa pensano di noi questa è una domanda fondamentale per l'ingaggio noi volontari abbiamo come percepire qui ce n'è una somma e sono elementi di riflessione anche questa è una slide che io vi lascerò così come l'ultimissima io la lascerò perché questa consulenza collettiva è più un modo per se vogliamo più che per dare risposte magari poi nell'ultimissima parte avremo spazio per delle domande ci arriviamo preoccupate è quello di suscitare in voi una curiosità di suscitare in voi la curiosità che trovando usando dei meccanismi organizzati probabilmente il risultato che si raggiunge è migliore che non andando un po' a casaccio allora la prima domanda che mi dovrei porre è ma cosa ne penso cosa pensano di me cioè com'è percepito il mio brand sono conosciuto mi conoscono ma lo sanno cosa faccio lo sanno chi sono qual è la mia identità lo sanno che cosa gli propongo attraverso i valori associativi che promessa gli faccio che notorietà ho che reputazione ho guardate spesso noi questa domanda non ce la facciamo perché non vogliamo sapere la risposta no sembra un po' egocentrico c'era quella vecchia battuta che dice vabbè basta parliamo di voi cosa pensate di me che è abbastanza che è abbastanza interessante da questo punto di vista perché ci ci apre no all'indagine su di noi il chiedersi cosa pensano di noi ci costringe ci condanna a riflettere sul come noi ci poniamo ci conoscono poco forse perché ci raccontiamo poco ci conoscono non sanno esattamente quello che facciamo perché ci raccontiamo male pensano che siamo appena nati anche se abbiamo cent'anni perché non ci hanno mai visto capite cioè dal sapere cosa pensano gli altri se noi siamo aperti ci vengono già delle risposte ai quali noi poi possiamo reagire con differenti comportamenti perché poi vedete ci sono tanti tanti metodi no lavorare sugli ambassador c'è chi ha i dipendenti e quindi può usare i dipendenti anche per il coinvolgimento l'organizzazione mantenimento dei volontari ma prima di tutto quando noi si ragiona con dei volontari nuovi noi dobbiamo ricordarci che ci dobbiamo raccontare in modo tale che questi ci osservino non che ci vedano non è sufficiente che ci vedano ci devono osservare perché nell'osservarci che capiranno come siamo fatti e guardate che osservare in sé è già un atto creativo allora che cosa vuol dire che è un atto creativo vuol dire che nei momenti in cui io ho davanti a me un potenziale volontario sia che abbia in mano il mio depria sia che abbia in mano me davanti come persona devo immaginare che lui sta facendo uno sforzo lui sta facendo lo sforzo di capire lui sta già in qualche modo pagando sta già spendendo ed è il motivo per cui spesso le persone che ci incrociano magari ai banchetti magari nelle situazioni tendono a svicolare perché non hanno voglia di spendere perché sanno che ascoltarci del tempo darci dell'ascolto darci un ascolto attivo è una cosa costosa e quindi noi dobbiamo ricordarci che questa questa attività è un'attività che noi gli chiediamo e che loro devono essere disposti a darci naturalmente poi dobbiamo anche sapere che chi è dall'altra parte non vede esattamente quello che dovrebbe vedere anche perché siamo noi primi che noi gli mostriamo le cose per come sono sfido chiunque di voi 56 probabilmente di 56 enti diversi a dirmi se quando ha ingaggiato un nuovo volontario gli ha detto tutti i problemi che ha in associazione non gli dice eppure lo sta cercando perché quella persona è potenzialmente una soluzione a quei problemi però capite noi raccontiamo solo un pezzo della storia e raccontiamo quel pezzo nel quale sostanzialmente noi facciamo come dire mettiamo in evidenza che l'associazione è un attore eroe e che ha uno strumento magico che poi è l'azione volontaria per risolvere il problema cioè noi costruiamo una narrazione sempre al positivo voi mi dite ma che è possibile fare ingaggio ai nuovi volontari costruendo una narrazione al negativo no non è possibile però si può raccontare una storia più completa se all'interno di quella storia si narrano anche le difficoltà perché se no alla fine la domanda la domanda guardate io ho visto tante volte ho fatto tante volte questo esercizio con le associazioni no mi dici cosa dice un volontario a un potenziale volontario perché diventi volontario eh tendenzialmente parte tutta la narrazione chi siamo cosa facciamo e poi quando si va all'elemento motivante no competenza motivazione di prima tendenzialmente si va a motivarlo ragionando su di lui cioè dicendogli se farai volontariato ti sentirai meglio no o starai meglio è vero non è che gli stiamo dicendo una cosa che non è vera ma in quel momento lui non è pronto ad ascoltarla in quel momento lui non è pronto non è non è aperto non è disposto ad accettarla probabilmente è più efficace se noi gli raccontiamo che attraverso la sua attraverso la sua azione volontaria saremo noi come associazione e l'azione che da noi rappresentata che starà meglio cioè alla fine dichiararsi per il bisogno che si ha non dichiararsi per la soluzione che si è si è una soluzione ma partendo da un bisogno e questo bisogno e questa soluzione poi di fatto in definitiva si incrociano e allora vedete possiamo usare tutte le narrazioni possiamo usare tutti i claim possiamo cercare le parole più adatte ma di fatto noi sbatteremo sempre sbatteremo sempre contro i bias cognitivi cosa sono i bias cognitivi i bias cognitivi sono comportamenti inconsci della mente umana che la fa ragionare in maniera quasi come se fosse irrazionale cioè come se in realtà avessimo già un pensiero preconfezionato vi faccio alcuni esempi che servono a voi applicati allora si tende a credere a ciò che si sente più spesso si tende a credere a ciò che viene fuori da un gruppo e quindi che arriva dai membri di un gruppo si tende a credere soprattutto a chi parla sul letto di prima rispetto al contenuto di quello che si sta dicendo si tende a credere ad ascoltare solo la prima parte delle informazioni tendenzialmente lasciando perdere quelle che arrivano in fondo guardate su questo voi siete quasi tutti i toscani avete un vantaggio per esempio io da Veneto ho una difficoltà che i veneti fanno una serie di premesse e la cosa più importante la dicono in fondo i toscani dicono la cosa importante all'inizio tutto il resto sono discorsi ecco per quanto riguarda la comunicazione efficace voi toscani siete più efficaci perché se è vero che il bias cognitivo dell'anchoring è quello di ascoltare solo le prime cose tendenzialmente il toscano gli dice le prime e poi il resto sono quasi inutili poi c'è il bias del presente quindi l'idea dell'effetto immediato e questo è uno dei terreni scivolosi dell'azione volontaria proporre un'azione volontaria ad effetto immediato è uno di quei di quei terreni dove per esempio tutti i volontariati individuali il volontariato one day il volontariato one shot che trovano sono sicuramente delle risposte per alcuni dei bisogni però sono pericoloso perché è di fatto è di fatto la tendenza a proporre una come dire è quasi il contrario dell'aggregazione perché c'è l'azione volontaria e c'è l'aggregazione volontaria su questo naturalmente noi ragioniamo di volontariato organizzato non di volontariato individuale casuale però il proporre una soddisfazione individuale immediata che in qualche modo è aggirare un bias cognitivo è molto pericoloso e poi naturalmente tendiamo a credere a ciò che crediamo già cioè il rischio di proporre volontariato sia che la persona abbia già in testa o abbia fatto esperienze o in qualche modo abbia già un'opinione sul volontariato e quindi continui a rimbalzare sulle sue credenze e quindi noi su questi bias con questi cervelli noi abbiamo a che fare dobbiamo saperlo e dobbiamo sapere che se vogliamo il loro bene dobbiamo riuscire ad aggirare questi ostacoli senza diventare giudicanti senza diventare eccessivamente duri allora uno degli strumenti che si potrebbe mettere in campo è la creazione di momenti di aggregazione non di di contatti veloci ma la costruzione di momenti allora la domanda Federico se ci mette il questionario riusciamo a compilarlo avete momenti di aggregazione per il reclutamento e usate materiali di comunicazione per il reclutamento attenzione alla risposta soprattutto la seconda per il reclutamento di di Ok. E' rimasta anche la domanda sui conflitti, ma non importa, è già risposto, ma è lo strumento, è colpa mia. Bene, allora, avete momenti di aggregazione per il reclutamento? Circa 70-30, cioè 70% hanno risposto di sì, il 70% di voi ha risposto di sì e il 30% ha risposto di no. Ecco, fondamentali i momenti di aggregazione, perché intanto sono dei momenti che hanno del tempo a disposizione e quindi all'interno dei quali c'è una maggiore possibilità di argomentare. Cioè il contatto one shot, veloce, al banchino di uno di quegli eventi canonici dove ci sono 50 associazioni che sembrano sempre delle fiere dell'azione volontaria, sulle quali io ho un'opinione piuttosto critica, ma a volte sono anche gli unici momenti che ci possiamo permettere. Però la costruzione di momenti aggregativi è fondamentale perché permette di avere del tempo a disposizione con il quale fare reclutamento attraverso dei materiali di comunicazione per il reclutamento. Allora, a quelli a cui dico, diciamo che il 65% dice sì ce li abbiamo, probabilmente avranno pensato al Deplian, alla brochure, eccetera. La mia domanda è, ma su quel Deplian, su quella brochure o tra quel materiale c'è anche un modulo attraverso cui raccogliete la mail o il numero di telefono della persona che contattate? Se io dovessi fare questa domanda, probabilmente la percentuale di sì avete materiali di comunicazione per il reclutamento calerebbe. C'è stata un'associazione che una volta venuta a consulenza e ha detto guarda noi facciamo un'attività meravigliosa, che è un percorso con i ragazzi dentro un spazio, abbiamo avuto i 150 la settimana scorsa, però non lo facciamo più. Perché? Eh, perché non succede nulla. Dico sì, ma di quei 150 avete una mail o un numero di telefono? Dice no, non gliela chiediamo mica. Come non gliela chiediamo? Ce l'abbiamo lì, sono lì, fanno l'azione insieme a noi, fanno l'attività insieme a noi. E lì poi abbiamo creato un meccanismo per cui la volta dopo sono riusciti ad avere qualche mail e qualche numero di telefono in più. Vedete, delle volte non è tanto la partecipazione all'azione quanto quello che ci rimane dopo questa partecipazione. Cioè noi dobbiamo essere efficienti e dobbiamo cercare di portare a casa il massimo del risultato e il massimo del risultato è la possibilità di un successivo contatto. Il massimo risultato di un contatto è la possibilità di averne un altro. Non quello che succede in quel contatto. Quello che succede in quel contatto serve ad averne un successivo. E un successivo ancora, è un terzo, è un quarto, è un quinto. Perché le persone non è che cascano folgorati sulla via di Damasco perché ci vedono per la prima volta. O perché ci hanno visto e quella volta siamo riusciti a parlarci, invece tutte le altre volte ci hanno visto e basta. Perché per essere convincenti dobbiamo essere continuativi, dobbiamo continuare. Perché, vedete, uno degli elementi di comunicazione è considerare quali sono i competitor. Ora, nel profit è normale, vendo merendine, il mio competitor è un altro che vendere merendine. Peccato che, come diceva il mio vecchio cliente che faceva attrezzi da palestra, gli diceva, ma no, ma sa perché il nostro concorrente Tizio ha fatto le panche meglio delle vostre? Dice, guardi, lei si sbaglia. Il nostro concorrente più pericoloso per le attrezzi da palestra è il divano. Non è un altro che fa attrezzi da palestra. Allora, il vero concorrente del volontariato sono i veri problemi. O quelli che sono virgolettati i veri problemi. Non è la mancanza di tempo, è il disimpegno, è il fatto che ognuno di noi è concentrato su se stesso. È la chiusura, è l'introspezione. Ma i veri problemi sono il più grande competitor del volontariato. Allora, su questo noi non possiamo fare molto. Non è che possiamo sostituirci, no? Però possiamo costruire eventi associativi, possiamo costruire materiali di comunicazione, possiamo lavorare sul mentoring e sul tutoring, possiamo lavorare sugli strumenti di comunicazione. Quindi mettere a punto una comunicazione che parli di noi verso qualcuno che ci capisca, tenendo presente che ci sono tanti modi di parlare, che ognuno deve trovare il modo adatto, il modo adatto a sé. Dobbiamo tenere presente che non abbiamo tutte le risorse, che non ce le abbiamo sempre davanti, che è capace che una persona che vediamo oggi poi non la rivediamo per anni. Quindi dobbiamo riuscire a mettere in piedi un messaggio anche veloce e per quello bisogna usare le parole chiave, per quello bisogna avere un claim, per quello bisogna pensarla prima, la comunicazione. Perché quando arriviamo lì, se no non abbiamo la capacità di costruire ingaggio. E allora dobbiamo ricordarci anche che quando noi li ingaggiamo su Facebook e sui social e poi li mandiamo al nostro sito, non dobbiamo rimandarli a Facebook e social. Se avete social e Instagram bottoni sul sito, levateli o metteteli in una posizione un po' più defilata, perché il rischio è che vi vadano di nuovo sui social, escano dal nostro mondo e finiscano in un mondo dove in un minuto succedono miliardi di stramiliardi di cose. e quindi il fatto di pensare di mettere un post che poi magari con fatica qualcuno arriva al nostro sito e poi rimandarli di nuovo sui social, è come aver buttato via un contatto. E vedete, un'altra delle occasioni, forse l'occasione che tutte le associazioni usano, perché il banchetto è il momento di accoglienza? Perché io parlo di banchetto come strumento per l'accoglienza? Perché in realtà lo è, perché non è soltanto un modo per farsi vedere e per farsi notare, ma è un modo per avere quel momento di aggancio con il cittadino. È chiaro, per esempio, che un banchetto fatto in questo modo, con i tavoli messi in questo modo, è una vetrina, mentre probabilmente se vogliamo riuscire ad avere un minimo di contatto, abbiamo costruito dei banchetti che abbiano degli spazi dove il cittadino possa entrare, meglio se le cose importanti sono in fondo, così intanto nel frattempo è sotto la nostra tettoia e tendenzialmente in qualche modo, in quel momento ci sta dando la sua attenzione. Ma perché il banchetto è importante? Intanto perché li fate, e quindi il fatto che li facciate mi costringe a ragionare sul fatto di come li fate. Allora il banchetto non è solo un momento per mostrarsi, è prima di tutto uno strumento di ingaggio. Un'associazione che si occupa di diritti delle donne maltrattate un giorno mi fa, Bruno, noi non faremo mai più il banchetto. E io mi ho pensato un attimo, poi ci ho riflettuto, ho detto sì, in effetti forse avete ragione, perché le donne maltrattate magari al banchetto non ci arrivano, non ci possono arrivare. Allora mettete, vedete questo che c'è scritto Città di Porto Torres, lo vedete questo qua, ecco, in questa fascia del gazebo, più grande ancora, gli ho fatto scrivere tutti il numero di telefono del centro, di modo tale che si potesse vedere anche da molto distante. Cioè il concetto per cui il banchetto diventa un momento in cui l'associazione non fa attrazione, ma è l'associazione che va verso il cittadino. Cioè dobbiamo immaginarci il banchetto non come un momento, una calamita che attila verso di noi, ma come una pentola a pressione che ci fa spingere verso l'esterno. Cioè noi dobbiamo immaginarci che il nostro banchetto in quel momento è il potenziale di aggancio più forte che abbiamo con persone che probabilmente non incroceremo mai più. A meno che noi non riusciamo a lasciargli qualcosa. Possiamo anche lasciargli soltanto un'impressione. Non c'è bisogno che non necessariamente, non oggi, ecco una delle cose che non ho messo in questa serie di slide, ma che sicuramente sapevo sarebbe venuta fuori, è la valutazione dei risultati, che invece è molto importante. Quando si parla di fare accoglienze di nuovi volontari il rischio è quello di non avere risultati e quindi di stancarsi e non farla più. E di dimenticarsene o di metterla da una parte perché affogati dal quotidiano che in realtà dà risposte, fa cose, ci dà dei risultati che possiamo misurare. L'accoglienza di nuovi volontari che è quasi come spazzare il mare, il rischio è di non riuscire a portare a casa il risultato e quindi ci passa la voglia di farlo. Invece l'accoglienza, un atteggiamento di accoglienza di nuovi volontari è strafondamentale. È più importante ancora dei risultati, è meglio fare un'azione in meno, diciamo un'azione-azione e farne una in più orientata a cercare di nuovi volontari. Ma non perché i nuovi volontari sono la linea, perché di fatto i nuovi volontari sono il... Avete già risposto a questa? Federico, poi me lo dici cosa era venuto fuori. Mi pare 50-50. I nuovi volontari sono un'opportunità, ma i nuovi volontari sono anche un rischio. E allora una delle cose che succede spesso è non cerco nuovi volontari perché il rischio è che poi dopo mi viene fuori casino, poi loro non so cosa fagli fare, poi no, mi si generano dei conflitti. Ma i conflitti si generano indipendentemente dai nuovi volontari. Allora ci sono per fortuna, ci sono per fortuna 23-24 di voi, più della metà di voi che dice no, noi non abbiamo conflitti interni o non abbiamo avuto conflitti interni. ma l'altra metà li ha o li ha avuti. Ecco, i conflitti interni a volte possono essere risolti attraverso l'arrivo di nuovi volontari. Anche l'arrivo di nuovi volontari può essere un elemento che aiuta a risolvere un conflitto. Cioè, potremmo sgombrare il campo dal non cerco nuovi volontari, se no poi dopo mi si crea casino all'interno dell'associazione. in realtà cercare nuovi volontari può diventare, può diventare, ovviamente governato, perché tutto va governato, governato, può diventare la soluzione a un conflitto. Naturalmente, naturalmente se, come dire, se andiamo verso, devo dire, abbastanza rapidamente anche verso la fine di questa parte mia che poi apre alle domande, ai discorsi che sicuramente verranno fuori, che purtroppo non potrò dare spazio a tutti, però se qualcuno ha qualcosa da aggiungere o qualcosa da chiedere, io sono a disposizione. Vedete, le parole importanti, mentre l'azione volontaria, le caratteristiche delle associazioni, la struttura, i modi organizzativi, sono tutte diverse, le parole importanti sono uguali per tutti. Allora, io perché ci ho messo prima di tutto motivazione e poi in fondo ci ho messo gruppo? Perché, intanto motivazione è una parola tra l'altro molto ambigua, però centrale, perché motivazione è sia dammi un motivo per farlo e tutti i motivi per non farlo. Capite? Cioè, c'è la motivazione che mi fa dire sì e a me non ho potenziali volontari, ci sono un sacco di motivazioni che mi fanno dire no. I veri problemi sono tutti motivi per il no all'azione volontaria. Allora, noi dobbiamo lavorare con metodo, con sapevolezza e con divisione aggiungendo passione per costruire relazione perché il vero, la vera forza, la vera forza dell'azione volontaria in contesti organizzati è la relazione. Il di più, quello che uno non può fare da solo, cioè io posso trovarmi dei motivi per non fare volontariato, ma non sono capace da solo di generare relazione. Per generare relazione ho bisogno dell'altro. E allora vedete accogliere nuovi volontari significa prima di tutto non tanto, non soltanto cercare di comprenderli e cercare di capirli e cercare di trovarli adatti e simili a noi e tutto quello che si è detto prima e costruire strategie di comunicazione adeguate, parole chiave e link messaggi e saltare i bias non è solo quello, è soprattutto proporre relazione, relazione, rilegarsi, legarsi insieme e quando ci si lega insieme non sono io che leggo te a me, non sei tu che leghi te a me, ci leghiamo insieme, ognuno da un capo all'altro del filo. C'era quel giochino ricordate il giochino del telefono senza fili, no? Se volete che una corda stia tesa bisogna che la tenga e tira in due se no da una parte cala, è evidente. E allora questo concetto della relazione, riscoprire, riscoprire, non tanto l'importanza, l'importanza della relazione potrebbe sembrare una di quelle frasi fatte che da me probabilmente che mi conosce non si aspetta e di fatti non la dirò mai anche se forse dopo il covid e dopo alcuni di questi periodi un po' di riscoperta delle relazioni positive come ci sta ma riscoprirne la matrice profonda costruire relazione attraverso la condivisione di parole che ci assomigliano e che ci fanno sentire uguali. Vedete poi in definitiva l'accoglienza del nuovo volontario che arriva inizia nel momento in cui noi apriamo la porta inizia nel momento in cui noi ci predisponiamo al farlo arrivare cioè è più un atto interno che un atto esterno è più un modo di essere che un modo di comportarsi non è allora visto facciamo questo 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 e poi però facciamo anche la ricerca volontari no facciamo questo 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 e nel mentre cerchiamo nuovi volontari ed è facendo queste quattro cose che cerchiamo nuovi volontari non è un'azione non è un di cui di una lista di azioni la ricerca di nuovi volontari è un è permea tutte le nostre azioni e se noi costruiremo le nostre azioni sempre con l'orientamento alla ricerca di nuovi volontari sarà più facile sia costruire le azioni che trovare nuovi volontari e allora questa cosa la puoi fare solo in gruppo non la puoi fare da solo non c'è il presidente dell'associazione che ci pensa oppure la persona il delegato associativo allora lui si occupa della ricerca di nuovi volontari mandiamo lui avanti o lei no c'è l'ho sentito dire no in un contesto organizzato certo si deve occupare dei materiali dei database del mandare una mail del incentivare per esempio di fare di usare Facebook tutti gli strumenti ma non si deve preoccupare dell'argomento dell'argomento si deve preoccupare tutta l'organizzazione perché la ricerca dei volontari è una responsabilità di tutta l'organizzazione e allora l'ultima slide che vi troverete quando ve le manderò è questa che è gli argomenti di riflessione cioè vi suggerisco di fare degli incontri interni su cui fate riflessioni anche miste ma sarebbe meglio una puntata alla volta una riflessione sulle persone per esempio le persone che noi abbiamo in associazione le impegniamo o no come gli diamo delle funzioni dei ruoli oppure andiamo un po' a casaccio aggiorniamo i dati delle persone che vengono da noi che sono volontari dell'associazione sappiamo dove trovarli cosa fanno come non fanno quando sono disponibili quando non lo sono parlando di promozione c'è qualcuno che se ne occupa direttamente abbiamo gli strumenti li stiamo gestendo li stiamo organizzando sono organizzati come cerchiamo i nuovi volontari la domanda avviene una selezione preliminare come se noi ne avessimo che ce la portano però attenzione non è che chi arriva va bene avviene una selezione preliminare vuol dire facciamo una valutazione attenta di chi si avvicina a noi chi fa la formazione chi chi si occupa di formare queste persone facciamo valutazione dell'azione dei volontari che tipi di incarichi chiediamo gli diamo di carichi continui cerchiamo il piede per la scarpa oppure facciamo con quel che c'è siamo artigiani o siamo industria attenzione non vi voglio portare a comportarvi come quelli che vendono le sottilette ma un po' di sana organizzazione soprattutto per i volontari nuovi è utile perché se no il rischio è che arriva uno e dice abbiamo bisogno di te questo viene non sappiamo cosa fargli fare non lo formiamo non gli stiamo dietro non ha un tutor non ha un mentor nessuno che gli spiega valori associativi gli chiediamo faccio tutto da solo dopo un po' questo dice sapete cosa c'è do due euro al teletto e vaffandomu no ce lo perdiamo ma guardate che un volontario perso non lo perde solo quell'associazione lo perde tutto il bene comune ho fatto volontariato sono stato adesso prendo la mia amica bruna ma perché ce l'ho davanti perché so che mi capisce sono stato alla bruna non mi sono trovato bene io col volontariato ho chiuso capite abbiamo una responsabilità che è anche collettiva come nella comunicazione fare brutta comunicazione fare brutti deplian fa male a tutto il volontariato non soltanto all'associazione perdere un volontario per disamore è una perdita per tutto il sistema ed ecco perché noi ci dobbiamo occupare di clima ecco perché noi dobbiamo pensare ecco perché noi dobbiamo cercare di capire e di come posso dire di costruire relazione perché noi di fatto nel volontariato noi vendiamo relazione noi vendiamo relazione in gruppo non siamo sottiletti ma le regole sono quelle in bocca al lupo per tutto grazie di essere stati qui grazie della pazienza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti